In questo Flash Tips vedremo come registrare video tramite ScreenCastomatic. La prima operazione da fare è registrarsi al sito e scaricare quel piccolo programma che poi dovrà essere installato nel computer. Fatto questo occorre andare semplicemente nell'home page come stiamo vedendo ora di ScreenCastomatic farne il login, infatti vedete quassù c'è la mia login. Dopodiché basterà cliccare semplicemente su Start Recording. Io clicco e dopo qualche istante, ecco qui vedrete, che comparirà un frame che è questo caratterizzato da una striscia bianca e nera il quale ci dirà che tutto ciò che è all'interno di questo frame verrà registrato. Questa piccola interfaccia sta a dire che possiamo registrare lo schermo, Screen, da webcam oppure entrambi, utile per fare dei video tutorial con il volto del relatore. Poi ci viene detto che il massimo tempo disponibile per la versione non a pagamento è 15 minuti, Size sono le dimensioni al momento di quest'area che vedete con i contorni neri e bianchi, ma io posso in qualche momento, in qualunque momento, eccola qui infatti è cambiato, ridimensionarla. Questa parte che vedete di verde indica che il microfono è attivo, infatti ora sta reagendo alla mia voce e poi eventualmente posso attivare o disattivare l'audio del computer. Cliccando su Preference vengono fuori anche altri aspetti da poter modificare come per esempio le scelte rapide dei comandi da tastiera, ma noi accettiamo quella parte. Ecco, una volta che ho deciso tutte le mie impostazioni, posso ridimensionare l'area, ecco qui, anche piccola, posso anche spostarla senza ridimensionarla, come sto facendo ora, e alla fine, quando ho fatto tutto, clicco su Rec. Ecco qui, parte un countdown di 3 secondi, dopo il Go sto registrando, ecco io al momento sto registrando quest'area. Tutto ciò che è all'interno di questa parte, che ora è diventata non più nera e bianca, ma rossa e bianca, viene registrato. Tutto ciò che è al di fuori, come al momento il mouse, no. Quando io ho finito la mia registrazione, clicco su Pausa, questo perché potrei riprendere dopo qualche minuto, e a questo punto, se ho veramente finito, clicco su Done, ecco qua, e Screen Customatic mi può far rivedere il video appena fatto, io ora infatti clicco su Play, dopo il Go sto registrando, ecco io al momento sto registrando quest'area. Tutto ciò che è all'interno di questa, la voce che avete appena sentito è la mia, registrata qualche istante fa con Screen Customatic. Ora quello che posso fare è salvare il video come file, e a quel punto lo tengo nel mio computer, farne l'upload nello spazio messo a disposizione a Screen Customatic, e perché anche nei piani gratuiti, oltre a quelli a pagamento, Screen Customatic mette a disposizione uno spazio, oppure, nel caso forse tra i più utili, caricarlo direttamente su YouTube. Ovviamente, scegliendo quest'ultima opportunità, Screen Customatic ci chiederà nome utente, password YouTube, per farne automaticamente l'upload. Grazie a tutti.